Siamo con Alessandro Cammareri, centrocampista del Mazzara. Alessandro si avvicina al momento clou della stagione che nella sua ultima giornata del campionato vi mette di fronte quello che è lo scontro diretto del vostro obiettivo principale, ovvero la salvezza. Che partita prevedi, quali saranno i vostri punti di forza e quali i loro punti deboli da osservare e quindi da fare in modo che il Mazzara se ne approfitti? Sicuramente sarà la partita della vita. Andiamo là per imborre il proprio gioco, per portare a casa un risultato positivo così un eventuale play-out, speriamo di un risultato positivo, lo facciamo a casa. I nostri punti di forza è tutta la squadra. Stiamo bene per ora. Veniamo dalla vittoria contro la Folcore, che pur siano dei ragazzini. Non era una partita da prendere sotto gamba. Ci siamo riusciti e i loro punti deboli non li so, sinceramente. Andiamo là, come ti ho detto prima, per cercare di imborre il proprio gioco e a fine partita tiriamo le somme. Come vi sentite voi del gruppo? Come state vivendo questa vigilia? No, noi siamo bene, ci alleniamo bene, il Ministro ci fa lavorare bene, ci sta preparando la partita nei minimi dettagli. E niente, speriamo di fare una bella vittoria al Rocco. Per un'eventuale prossima stagione, forse magari è un po' presto parlarne, che si spera possa essere disputata ancora in eccellenza. Ti senti di far parte di un progetto che ti possa portare a far sì di comporre una squadra che lotta per altre posizioni, come a Mazzara la tifoseria è abituata? Nando, cerchiamo di salvarci quest'anno, poi se il prossimo anno viene di una chiamata da parte del Mazzara, sicuramente mi metto in difficoltà perché a Mazzara ci sto bene e mi ci sono affezionato. Se sarò di nuovo a Mazzara, speriamo di esserci con altre ambizioni. Grazie a tutti.